Dopo i noti casi di Canzano, Roseto e Castellalto sta per aprirsi un nuovo fronte contro le multe agli automobilisti, questa volta nei confronti del comune di Notaresco. Il promotore della nuova contestazione popolare, come è già avvenuto negli altri casi, è sempre lui, Michele Petrosino, già protagonista delle battaglie precedenti che negli anni scorsi hanno portato all'annullamento di migliaia di verbali, ritenuti irregolari nel caso della cosiddetta Moltopoli di Roseto anche alla condanna per danno erareale all'ex comandante dei Vigili Urbani da parte della Corte dei Conti. Molti automobilisti negli ultimi giorni si sono visti recapitare dalla Polizia Municipale di Notaresco le multe dello Speed Scout, nuovo sistema che consente il rilevamento cosiddetto dinamico della velocità. Forse un migliaio per adesso no, ma ne saranno diverse migliaia nei prossimi mesi. Il comune di Notaresco ha intrapreso un'attività a livello industriale con le multe, perché ha previsto in bilancio delle somme esorbitanti di entrata riguardo alle multe che verranno elevate nel loro territorio. E stanno utilizzando un macchigegno che è da considerare non positivamente sotto diversi aspetti, perché la prima cosa che è da contestare è che questi non hanno fatto nemmeno una contestazione immediata, cioè non hanno mai fermato un veicolo. Non è possibile che su 500 multe già notificate tutte sono allo stesso modo in ciclostile, cioè non abbiamo potuto effettuare la contestazione dato il traffico intenso e dato la pericolosità della strada. Può darsi che non c'è stato un momento in cui avrebbero potuto fermare la macchina e fare attività preventiva? Il codice della Stata parla chiaro. Le attività si fanno di prevenzione, non di repressione. E i comuni che vogliono fare cassa con le multe sbagliano di grosso, perché troveranno, almeno in me, sicuramente un'opposizione. Precedentemente siamo riusciti a farlo annullare tutte le multe precedenti. Ci proverò anche per questo. Sto a disposizione dei cittadini e seguiterò a fare la mia attività per difendere i più deboli. Cosa bisogna fare per contattarla? Basta che mi chiamano al telefonino. Il mio numero di telefono è 328-223-7075. Per la fine del mese mi attrezzerò con un ufficio e sarò a disposizione dei cittadini che vogliono fare ricorso.